Prima di procedere oltre, comunque, spieghiamo che cosa intendiamo per tradizione e per tradizionalismo. Per tradizione intendiamo ogni cosa che è trasmessa, tradere, dalla Chiesa alle generazioni successive, cioè tanto la Sacra Scrittura quanto il patrimonio non scritto della Chiesa, tradizione in senso ristretto. Questo patrimonio non scritto comprende la Divina Tradizione che insieme con la scrittura costituisce la Rivelazione o il Depositum Fidei e la Tradizione Ecclesiale o Estrinseca che include gli insegnamenti non infallibili del Magisterio Ordinario e il Codice Disciplinare della Chiesa come disposto nel Codice di Diritto Canonico. Un tradizionalista prende la tradizione come il canino di ortodossia per la dottrina cattolica, una dottrina moderna che o nel suo senso unico o in uno dei suoi sensi contraddice la Divina Tradizione deve essere chiaramente rifiutata. Quanto a una dottrina moderna che contraddice la tradizione ecclesiale, come a prima vista la dottrina contenuta nell'umane vita e secondo la quale il controllo naturale delle nascite è un bene, essa deve essere interpretata alla luce della tradizione, vale a dire in questo caso come avente limitata applicazione. La motivazione del tradizionalismo è nel primo caso la fedeltà alla verità e nel secondo caso la fedeltà alla mensa ecclesie, costituita dalla saggezza e dall'opera della Chiesa e dei Santi nel corso di duemila anni. La ragione del tradizionalismo è in effetti niente meno che una motivazione cattolica e il tradizionalista non è nient'altro che cattolico. Primo, perché la tradizione scritta e quella divina costituiscono la fede stessa. Secondo, perché il termine cattolico viene dal termine greco che sta per intero, che si può intendere non solo della divina tradizione ma anche della tradizione ecclesiale. Qualcuno potrebbe obiettare che non dovremmo mai porre in questione qualcosa insegnata dal Magistero o dal Papa. Noi dovremmo piuttosto rispettare ognuna di queste dichiarazioni e assentire ad essa con una pronta e rispettosa fedeltà della mente. A ciò bisogna rispondere che noi le rispettiamo nel momento in cui le valutiamo alla luce della tradizione, alla luce della dottrina cattolica stabilita e con l'accettarle in quella luce se ciò è possibile. Questo assenso è un assenso che non tiene conto delle eventuali opinioni personali contrarie che noi possiamo avere. Esso non è un assenso che ignora le altre dichiarazioni del Magistero. Vale a dire, nel contesto presente tutte le altre dichiarazioni del Magistero nel corso della storia della Chiesa, cioè la tradizione stessa. Alla luce di queste considerazioni possiamo formulare i principi per i quali il tradizionalismo opera come segue. Dà la priorità nel Magistero alla dottrina tradizionale rispetto alla dottrina moderna. Rispetta la dottrina moderna, quindi la accetta per quanto è possibile alla luce della tradizione. Ritorniamo all'esempio delle chiese sorelle. Il tradizionalista intende questa espressione nei suoi due sensi, il senso cattolico e il senso non cattolico. Egli accetta il senso cattolico e rifiuta il senso non cattolico. In verità, da commentatore cattolico o catechista, egli ha il dovere di rifiutare o piuttosto condannare la dottrina non cattolica o retica perché essa è deleteria per la fede e per il fedele.